bellissimo darst 606 anni 60 presumo 70 qualche scrostatura in funzione attualmente con filtro rosso e questo invece è il porta con la sua lente e il porta pellicola che va inserito qua all'interno sarà difficile con una mano sola si inserisce e niente lampadine tutte le leve le le agli assi salgono scendono c'è tutto quanto regolabile anche l'inclinazione con questo regolabile semplicemente bellissimo adesso aggiungo delle foto ciao grazie